È un insieme di belle testimonianze, sono belle testimonianze quelle che abbiamo ascoltato nelle varie celebrazioni, anche alla festa degli italiani e poi il giorno di accoglienza del Papa e soprattutto ieri durante la Via Crucis. È il Vescovo di Arezzo, Don Andrea, come preferisce che lo si chiami, a raccontarci da Lisbona tutta la gioia dei giovani della diocesi aretina, protagonisti della 37esima edizione della giornata mondiale della gioventù meglio nota come GMG. Sei giorni di incontri, eventi per migliaia di giovani arrivati a Lisbona da ogni parte del mondo e almeno 6.000 famiglie che si sono messe a disposizione dell'evento in tutta la città. Belle testimonianze io le vedo tra i nostri giovani, quelli della nostra diocesi. Hanno partecipato davvero in modo intenso, allegro, con spirito giovanile ma anche con partecipazione vera di fede e di cammino che stanno vivendo. Quindi io raccolgo una bella testimonianza dei nostri giovani ed è un segno grande di speranza. Anche tornando a casa per noi, le nostre parrocchie, le nostre famiglie. E poi mi ha colpito la forza del Papa. Si vede che accoglie e riceve entusiasmo da questi giovani e che ha voglia di portare e di raccontare a loro in modo semplice la bellezza di vivere il Vangelo. E anche questa testimonianza di Papa Francesco arriva al cuore di tutti, arriva al cuore dei giovani. Tra poche ore Don Andrea sarà di nuovo ad Arezzo per celebrare il suo patrono, San Donato. Io partirò, tornerò domani sera con un volo da Lisbona, proprio tornando apposta per la festa di San Donato, la mia prima occasione di vivere questa festa in diocesi. E vivere la festa di San Donato Vescovo è un tornare non solo alle radici, ma alla sorgente della fede. A chi ce l'ha portata come annuncio? E questo ci ricorda che la fede è sempre un dono e che noi, anche come diocesi, oggi la manteniamo, la teniamo viva se la accogliamo come dono e se la testimoniamo come dono per gli altri. Allora sia questa festa di San Donato per la nostra diocesi un nuovo impulso all'annuncio del Vangelo e a esserne testimoni.